Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A risolto giallo! Buonasera risoltisti, ma non solo. Ci sono anch'io, buonasera. Non solo risoltisti, oggi doppia piattaforma, doppia utenza. Io però sono sempre Alessio Sorgato. Io sono sempre Niccolò Mazzavillani. E oggi qui c'è capo. Che lo chiameremo sempre così, capo. Oggi c'è Giuseppe Pastore, altrimenti detto Mr. Thriller Caffè! Ciao, grazie per l'ospitalità. Mamma mia Giuseppe, tu lo sai che io ho due anni e mezzo. Ho fatto un bel prezio. Se andiamo a contare le mail in cui io gli dico, senti però Giuseppe, quell'invito a risolto giallo. Sì, te lo giuro, vengo, vengo, vengo. Eh, sono venuto poi. Hai ragione. Ma è venuto ma non è mica costretto a rispondere alle tue domande. E soprattutto a restare, magari si alza e se ne va. Io venire, sono venuto, basta. Allora, tornando a tutti, noi è un passo indietro. Ecco perché ho detto non soltanto. Ci sono anche tutti i thriller caffettari. Come li vogliamo chiamare, i thriller caffè. Thriller caffeisti. Ossia, tutti gli utenti di questa creazione di Giuseppe, poi ci facciamo raccontare quando nasce, che si chiama Thriller caffè. Quando nasce? Quando ti viene questa idea? Quando nasce? Allora, Thriller caffè nasce ufficialmente nel 2008. Quindi sono passati circa 16 anni adesso. E sembra ieri, eh? Sembra ieri. Sembra ieri. Io mi ricordo nel 2008 che cosa stavo facendo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Come ti viene? Ma guarda, allora, c'è stata una fase nella mia vita in cui ho avuto molto tempo libero, perché ho avuto un incidente con fratture multiple. Quindi ho potuto alimentare la mia passione per la lettura, per la scrittura e ho cominciato un po' a bazzicare il mondo del web, cercando degli spazi in cui potessi trovare delle persone con gusti affini, no? Quindi ho iniziato a collaborare con un sito di narrativa horror, fondamentalmente, che è ancora frequento. Però poi nel tempo ho maturato l'idea che alcuni dei contenuti che pubblicavo su quel sito potessero avere una dignità per stare in un mondo a parte. E quindi nacque questo mini blog, se vuoi, su Blogspot. Quindi parliamo un po' degli albori, perché comunque erano i primi tentativi. E poi dopo alcuni mesi mi disse, se lo faccio sul serio o lo chiudo. E quindi registrai il dominio thrillercafè.it, perché altrimenti avrei smesso. Ecco, quindi volevo che fosse una cosa con un impegno reale, ecco, non un test and trial e basta, lo lasciamo così, muore, non fa niente. Quindi nel 2008 ufficialmente registrai thrillercafè.it e da allora è passato un po' di tempo, Mercedes è ancora là. Che cosa fa Thrillercafè? Thrillercafè è una bella domanda questa, perché fondamentalmente tante persone potrebbero avere un'opinione diversa di quello che fa Thrillercafè a seconda dell'angolo del mondo editoriale da cui proviene e con cui lo approcci. Però Thrillercafè è un locale virtuale in cui il barman e gli aiuto barman servono ai nostri avvintori degli aperitivi gialli, neri e rosso sangue. Quindi Thrillercafè esiste per le persone che apprezzano e amano la narrativa thriller, la narrativa gialla, la narrativa noir, ma per le persone. Ecco, Thrillercafè non esiste per gli editori, non esiste per gli uffici stampa, non esiste per il mondo del professionismo. Thrillercafè è uno spazio in cui le persone possono trovare delle opinioni indipendenti, professionali, non professionali, vediamo poi dopo, ma indipendenti su quello che ci piace leggere. Ho opinioni tra cui anche... Sì, ma io sono... Della nostra... Io arrivo a Thrillercafè in lockdown, quindi... Quindi anche te il lockdown è... Eh sì, perché comunque quella è un punto di svolta per tantissime persone. Ci siamo ritrovati con un tempo a disposizione e un contatto con la rete, che prima forse delegavamo soltanto e relegavamo al lavoro e così lui ha proprio uno spin dove c'è scritto collabora con noi, ti tiene un pochino così, ti testa le prime recensioni, le pubblica come la redazione. Io adesso quando vedo la redazione dico questo è uno nuovo, è arrivata la spina, è arrivata la spina. Però insomma stiamo parlando di un flusso giornaliero, quotidiano, esce una recensione al giorno, che non è proprio un lavoretto da nulla, significa avere molta forza, lavoro, molti recensori appassionati e forse anche un bello sguardo a 360 gradi, perché tu prima ci hai spiegato i generi, però non ci hai detto le nazionalità degli scrittori di cui pubblichi. Beh, tutto il mondo fondamentalmente, chiaramente molti italiani, ma poi collaboriamo... Ecco, collaboriamo, una parola un po' borderline. Recenziamo libri di diverse case editrici, grandi, medio-grandi, piccole, così così. Abbiamo tanti collaboratori, perché comunque capisci che... La squadra di quanti aiuto barman è formata adesso? Ma in pianta stabile e meno stabile, saremo una quindicina, ecco. Poi ci sono sempre delle persone che si avvicinano, ma sono un po' meno costanti, delle persone che sono costanti per una fase, ma poi la vita, insomma, li porta a rivedere le proprie priorità. Quindi nel tempo capisci che in 16 anni si sono alternate tante persone. Alcune di queste persone hanno avuto una storia con il sito più lunga, alcune di queste persone hanno avuto una storia col sito più breve. Con molte persone abbiamo anche avuto l'occasione di vederci dal vivo, conoscerci di persona. Anche se io poi non sono una persona molto sociale, ecco, questo bisogna dirlo. Io mando email di due righe molto stringate, sì, ricevuto, ciao, grazie, ci sentiamo. Le mie skill sociali sono un po'... Adesso ti chiedeva, ma dai, vieni, ha risolto già le risposte, era no. No, no, era sì, e poi non fissava la data. Ah, ok. Sì, ok. No, tu pensa che in tutti questi anni, io per loro ne ho scritte, a te ne ho scritte tantissime, via. Sono una... Sì, sei tra i top della classifica. Sei uno zoccolo duro di... Mi sto avvicinando alla centesima, la centesima, Giuseppe, stappiamo. Facciamo festa. Ma questa è la seconda volta che lo vedo? In tutta la nostra vita? In... Sì, è vero. Tre anni e mezzo. Tre anni e mezzo. Sì, è vero. È la seconda volta. E chi ti dice che è lui? È lo stesso dell'altra volta. Prego. Oddio, cioè, le domande da fare sarebbero tantissime. Cioè, vabbè, partiamo da una molto, molto, molto classica. Tu hai detto che scrivevi anche, ma sempre gialli, noir, oppure spaziavi un po' tra i vari generi letterali. Allora, scrivevo è una parola grossa, eh, premettiamo. Non mi ritengo uno scrittore, uno scrivente, uno scribacchino, uno imbrattacante, non lo so. Ecco, scrittore è una parola grossa e la lascio per chi veramente è capace. Io nella mia fase post-incidente ho cominciato, ecco, a dilettarmi di scrittura perché io ho un po' un approccio molto strong sulle cose. Se quello lo fa, lo posso fare pure io. Quindi c'è gente che scrive libri perché non posso scrivere un libro pure io. Ecco, diciamo che non mi pongo particolari limiti rispetto a quello che potrei o non potrei fare. E ci fu quella fase nella mia vita in cui mi dissi, va bene, potrei essere in grado di scrivere un thriller. Visto che leggevo molti thriller, io sono, ecco, transitato da Le Tigri di Monpracen, da Gatacristi, da Gatacristi è un po', ecco, meno giallo classico e più thriller. A quel punto dissi, io scrivo il mio thriller. Ma il mio thriller poi non è mai stato pubblicato e non è mai stato finito, tra l'altro. Ma sei sempre lì? Sì, e da qualche parte. Bertina di Linus è lì. Quindi cominciai con una serie di, sai, test un po' più semplici di un romanzo, con dei racconti brevi, narrativa di genere, anche horror, science fiction, fantastico in senso lato, sai, le targhetti, i premietti, la pubblicazione in antologia, tutte queste cose qua. Ho scritto un saggio, ecco, forse la cosa un po' più rimarchevole è questo saggio sull'omicidio seriale in coppia, che è l'unico libro italiano edito sul tema, all'epoca discreto successo per una piccola casa editrice. Poi la casa editrice si è sciolta, col mio coautore abbiamo un po' perso i contatti, il libro è rimasto, ecco, introvabile adesso. Quindi bisognerebbe fare una riedizione. Che bello, tra l'altro, cioè, da Bonnie e Clyde. Sì, sì, era una nicchia in cui non c'era molto materiale. Ecco, abbiamo tanti libri sul serial killer, però tipicamente viene relegato l'aspetto della coppia a un capitolo, qualcosa in più, non c'era un libro dedicato. Abbiamo scritto una cosa che all'epoca fu apprezzata. Aspetta, veramente, pensa adesso con la revisione del delitto di erba. Io ci penserei ad aggiornarlo. Potrebbe essere un'idea, dai. Io ci penserei. Poi comunque, Giuseppe Pastore, tu magari hai esplorato tutto questo, ma poi hai creato Thriller Caffè. Il primo, il più seguito. Quello che, dove tutti vogliono essere pubblicati. Perché guarda che noi qui a Risolto Giallo, lo sappiamo. Li chiami, li convochi, gli proponi l'ospitata e poi a me dicono, sì, però mi recensisci anche su Thriller Caffè. È come dire, sì, sì, Risolto Giallo, vengo. Lo sentite diverse volte questa. Però è lì che vogliamo arrivare. Perché evidentemente hai un grande seguito. Hai mai calcolato quante visualizzazioni si fanno di media? Thriller Caffè fa circa un milione di pagine viste all'anno. Pensate. E l'Italia è un paese che non legge. Meno male che non legge. Su questo un aneddoto, se a me è curiosa la cosa, perché all'inizio quando Thriller Caffè è nato nessuno lo leggeva. Chiaramente io avevo il contatore di visite che segnava ammestamente due pagine viste, tre pagine viste, cinque pagine viste al giorno. E la mia domanda era, perché le persone non vengono a visitare questo sito che offre tutti questi contenuti, bla bla bla. A un certo punto mi posi la domanda, ma io se cerco su Google libri Thriller, libri gialli, dov'è il mio sito? E il mio sito non c'era. Allora io mentre di giorno facevo l'ingegnere elettronico, perché io sono laureato in ingegneria elettronica, di notte mi studiavo come funziona Google per capire come tirar su il traffico del sito. E a un certo punto questa roba di Google mi è piaciuta talmente tanto che io ho smesso di fare l'ingegnere elettronico e ho iniziato a fare quello per lavoro. Quindi Thriller Caffè è stata anche la chiave di volta della mia carriera professionale. Quindi fai AdWords? No, non faccio AdWords, ho fatto per tanti anni posizionamento organico. Ho parlato a eventi, insomma una serie di step nella carriera, poi ho cambiato un po', adesso mi occupo di digital insensolato, però è partito da lì. Quindi Thriller Caffè è stato un po' il grimaldello anche per cambiare vita e lasciare l'ingegneria che non mi soddisfava e fare un'altra roba nella vita. Guarda quanto lobby il piacere personale, l'alternativa può essere il traghettino che ti porta. Di credere in qualcosa che poi ti porta un premio alla fine, perché da 4-5 a un milione di pagine... Devo dire che i primi anni lavorarci di notte era faticoso e diceva bene Alessia, esce un articolo tutti i giorni da 16 anni, non è semplice, ci sono fasi in cui sei solo tu. I primi anni eri solo tu, perché poi è nato come uno spazio un po' personale, prima di maturare la decisione di aprirlo ad altre persone, io ci ho messo tanto, questo è quello che penso io. Quindi prima che ci fosse una redazione, se vuoi, sono passati anni, quegli anni non c'era sabato, non c'era domenica, non c'era weekend, non c'era vacanza, il sito bisognava che si aggiornasse. Qual è stato il momento in tutta questa storia che reputi proprio il momento di svolta, cioè quello da cui poi la musica è cambiata? Bella domanda, mi porta alla memoria purtroppo ricordi tristi, che c'è stato un collaboratore per anni, che era un amico prima che un collaboratore, che si chiamava Elvezio Schallis, che mi ha dato una mano per molto tempo nei momenti in cui comunque ero da solo, poi Elvezio purtroppo è venuto meno alcuni anni fa, però lui è stato un po'... Ecco, il momento in cui il sito è passato da una dimensione molto personale a, ok, adesso lo espandiamo, però avevo bisogno che qualcuno mi desse una mano e lui, insomma, è stato una colonna per molto tempo. Elvezio ha più di 1500 articoli sul sito o qualcosa del genere, quindi su, adesso mi ricordo quanti articoli ci sono sul sito, parliamo di diverse migliaia di articoli, però sicuramente quella è stata una fase in cui avere lui al fianco è stato importante. Io ti faccio una domanda a cui puoi avvalerti dalla facoltà di non rispondere, perché qua entro veramente in... Vediamo A gamba tesa Qual è il rapporto di Giuseppe Pastore, Thriller Caffè, con le case editrici? È un rapporto paritario, ok, a me non piace il blog tour, a me non piace la marchetta, a me non piace l'iniziativa un po' pilotata, ok, case editrici hanno interesse a comparire sul sito perché abbiamo dei lettori, Il sito ha interesse a portare i lettori dei contenuti, quindi la casa editrice è strumentale ad alimentare il sito, ma è un rapporto win-win, non sono ecco molto fan di parlare bene per forza delle case editrici, Per alcune case editrici potrei anche non parlarne del tutto, se il rapporto vedo che è sbilanciato, ti faccio un piacere mandandoti la copia, posso anche cancellarti dalla programmazione da qui all'eternità, ecco io non sono molto... Dicevo prima, il sito esiste per i lettori, le case editrici hanno piacere ad esserci bene, hanno meno piacere ad esserci uguale, cambia niente, non mi faccio mandare regali, inviti, presentazioni, l'aperitivo, no? Vuoi venire all'evento? No? Ecco, sono molto... anche perché poi quando si genera la dinamica amicizia poi diventa difficile essere autonomi, credibili, indipendenti, critici alle volte, quindi per me i due settori sono un po' separati, L'editore fa l'editore, noi facciamo il blog, o il magazine... Vi sta dicendo la verità, guardate, potrà sembrarvi autoreferenziale quello che sto per dirvi, ma non sta facendo una marchetta a noi dicendo questa cosa, perché io mi ricordo benissimo quando mi sono offerta, quando mi sono proposta, e gli ho detto che cosa facevo nella vita, qual era il mio rapporto con la letteratura, con la lettura, gli chiesi, ma... e lui mi disse, va bene, vediamo cosa sai fare, e io gliel'ho chiesto subito, ma devo per caso evitare tutte le note critiche, le cose che non mi sono piaciute, e lui mi fa, ma stai scherzando, tu devi dire esattamente quello che pensi di quel libro, e se la recensione è negativa, io te la pubblico lo stesso, e io rimasi basita, perché mi dissi, caspita, mi pubblica lo stesso, e magari invece a lui quell'autore piace, o magari a tanti che poi gli fanno la rampogna, perché è uscita una recensione negativa, e magari se la prendono con lui, lui immediatamente, subito, massima libertà, ti è piaciuto, lo dici, non ti è piaciuto, lo dici, e dici anche perché. Quindi si può dire, cioè in una recensione, chiaramente non bisogna scrivere frottole, ok, però bisogna essere onesti, sinceri. Assolutamente, ecco, noi non siamo un sito di critica, ok, noi siamo dei lettori che possono esprimere un parere, il parere può essere più o meno argomentato, ma comunque resta un parere, nessuno si eleva del detentore, del sapere o cosa, quindi, persona che ha letto il libro è libero di esprimere il parere che ritiene più opportuno, chiaramente argomentando laddove il parere fosse negativo, perché poi non vogliamo dare stroncature, così, senza una ragione, comunque, ecco, orientiamo semmai i gusti di tante persone che vengono sul sito, è giusto dare degli elementi per cui la persona che legge la recensione possa capire se il libro fa per lui oppure no, ma questo è l'obiettivo del sito, ecco, aiutare le persone a capire se il libro fa per te, se non fa per te, perché per me non è stato interessante, bene che tu lo sappia, ti evito di comprare un bidone, ecco, sono tante cose che sono veramente indegne, ma vengono pubblicate lo stesso, anche da case editrici grandi, se il libro è brutto, è brutto, c'è poco da dire. No, 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 certo, no, è bella questa cosa anche perché c'è magari a volte un eccessivo perbenismo nel voler dire che sì, non è bellissimo però sai a quella caratteristica che è singolare, esatto, brava. Non è bella ma è simpatica. Esatto, e invece a volte, caspita, chiaramente senza mancare di rispetto, perché poi si passa dal giusto e si passa al torto, però essere onesti e dire questo libro non mi è piaciuto, non l'ho trovato piacevole per questi motivi, il protagonista secondo me è sembrato piatto, non ha una sua caratteristica diciamo particolare, quindi essere oggettivi secondo il proprio punto di vista, ma dare tutte le risposte, non dare nulla di per scontato. E poi magari fai anche una cortesia a uno scrittore, qui noi abbiamo avuto ospite due volte, uno scrittore che io la prima volta sulla tua pagina avevo stroncato, quando l'ho invitato è arrivato con la mutanda da mianto pronto a prenderle, ma siccome il successivo invece mi era molto piaciuto, e lui questo aveva letto, l'aveva letto di tutte e due le recensioni, però anzi incredibilmente la seconda non era ancora stata pubblicata, ma ha avuto il coraggio di venire qui lo stesso, e poi in camera caritate sfuordare le telecamere, mi ha detto ho limato un po' quella cosa che tu avevi definito implausibile, nel secondo un po' l'ho grattata via. Facciamo pure il bene degli scrittori. È per questo che il rapporto con le case editrici mi interessava, perché anche Risolto Giallo fa la stessa cosa, Risolto Giallo dà dei begli spazi, fa parlare gli scrittori. Ok, ultimissima domanda, da un annetto a questa parte, forse un felino di più, tu ti occupi di recensire serie Netflix? È un qualche cosa che si è tenuto lui in esclusiva, almeno da quanto vedo io, te lo sei tenuto tu. Ah, ma non per senso di gelosia, è solo perché in questo momento non c'è nessuno che sia particolarmente attratto dall'idea di collaborare su quella parte, però il pubblico ha interesse a quel tipo di contenuti, perché comunque è più semplice guardare che leggere. Ecco, infatti la domanda è questa, il futuro di Thriller Caffè quindi è aprirsi anche al visual, non soltanto più al leggere? Sì e no, rimane comunque preeminentemente un sito di narrativa, ecco, non cambierà mai, non diventerà mai coming soon. resterà sempre e comunque un sito di narrativa, ma visto che le persone a cui piace leggere, semmai nei momenti in cui non leggono, hanno piacere a vedersi qualcosa in tv, ci saranno ogni tanto dei contenuti su serie e film, ma non sarà mai quello il centro della programmazione. Un'altra cosa. Ok. Anche perché non ho le competenze per giudicare, non capisco niente di fotografia, sceneggiatura, regia, recitazione. Beh, però anche lì è legato molto a ciò che provi davanti a un'immagina, perché è chiaro che uno per saperne ne deve proprio andare a studiare cose, però allo stesso tempo, c'è anche io per esempio quando guardo i film, io non mi ritengo un esperto, però mi permetto di dare un mio giudizio in quanto persona e alcune cose mi piacciono perché mi fanno provare certi tipi di emozioni, altre non mi piacciono perché non mi fanno provare assolutamente niente. Quindi anche questo è un modo per giudicare qualcosa che stai vedendo, qualcosa che stai leggendo. Poi è chiaro... Ci sta. Poi è chiaro che se vuoi proprio dare l'opinione per antonomasia, allora in quel caso c'è da ergersi a grande critico, allora in quel caso... Ma infatti i contenuti sul sito oggi sono contenuti puramente informativi. Certo. A tema segnalazione esiste questa cosa. Certo. Sappiatelo. Certo. A proposito, vuoi parlare del concorso? Assolutamente sì, grazie per l'opportunità. L'ultimo spicchio della trasmissione lo dedichiamo a questo. Allora, il concorso è giunto alla sua terza edizione. Penso sia un'occasione per tutti gli scrittori emergenti di provarci, perché comunque il concorso... Non toccare lì sotto. Il concorso è fatto per gli scrittori, per dare loro una possibilità di accedere ai servizi di una realtà comunque con una certa clientela, perché il thriller caffè è il locale e ha una certa clientela, e di proporsi a una casa editrice e vedere come va. Quindi il concorso adesso... Scadenza? Scade a metà aprile, giorno esatto non me lo ricordo. Nelle precedenti due edizioni abbiamo avuto un buon successo di scritti, abbiamo avuto delle belle antologie con dei racconti, secondo me validi. Quanti ne verranno prescelti? Dipende un po' dalla qualità, ecco. Sia nella prima che nella seconda c'erano più o meno una ventina di scritti, forse una quindicina di scritti. Nella prima abbiamo avuto anche un raccordo di Pulixi, che ci ha regalato un racconto. Abbiamo avuto delle prefazioni, abbiamo in giuria degli scrittori professionisti, quindi penso che il contesto sia interessante. Certo non è il grangiallo di Cattolica, però nel nostro piccolo, senza sponsor, cerchiamo di fare il massimo. Guardate, veramente, da una frattura è nato tutta una cosa così bella, e così utile per tutti. Dal vostro racconto può nascere qualunque cosa. Quindi, regolamento pubblicato sul sito, scadenze, numero di battute, tutte quante le condizioni sono lì, thrillercafè.it. Sì. Buttatevi. Buttatevi. Sapete che una degli esaminatori... Sul concorso. Sono io. Cercate di non mettere il mandato di perquisizione, perché vi boccio. Quindi direi che siamo alla fine. Sì. Allora, basta. Fine. Buona serata a tutti. Ringraziamo il nostro ospite. Ma grazie a voi. Ciao Giuseppe Pastore. Ciao Thrillercafè. Ciao risoltisti gialli. Ciao. Alla prossima. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. Ha risolto giallo. Ciao.